Come si stila un menù di ristorante? Allora, innanzitutto il nostro locale deve avere un brand e un'immagine forte e chiara. Dobbiamo trasmettere sicuramente un messaggio pulito, netto e preciso. Su questo messaggio il menù andrà costruito. Di certo dobbiamo anche fare attenzione agli spazi che abbiamo a disposizione. Il menù non può prescindere dagli spazi che abbiamo per poter lavorare sia in sala che in cucina. Altro discorso importantissimo è quello di tenere in considerazione all'interno del menù il ciclo di vita delle nostre materie prime. Quindi dobbiamo trovare il modo per far rientrare tutto quanto in un circolo sempre perfetto in modo che si sprechi il meno possibile se non nulla. Fare un menù in un locale preesistente, in un'attività preesistente piuttosto che fare un menù in un locale X9 è diverso. In un locale nuovo che andiamo ad aprire dobbiamo sicuramente tenere in considerazione che il menù deve precedere l'impostazione del locale e quindi i lavori nella struttura. Se invece andiamo a aprire una struttura in un locale preesistente dove ci troviamo già degli spazi predeterminati e anche delle strutture predeterminate, non possiamo prescindere da ciò che abbiamo a disposizione. Quindi l'impostazione e il punto di guardare e di iniziare un menù è sicuramente diverso. Quindi fare un buon menù non vuol dire fare dei piatti carini con una bella pennellata su e con dei gusti ineguagliabili, non è soltanto questo. È sicuramente innanzitutto mantenere sempre una coerenza con il nostro brand, i nostri piatti devono rispecchiare quella che è la nostra etichetta, numero uno. Numero due, dobbiamo sicuramente stare all'interno del recinto del budget che abbiamo e di quello che gli spazi e l'operatività del locale stesso ci consentono. Numero tre, non solo il palato deve essere soddisfatto ma l'esperienza del cliente in generale. Per cui anche il menù deve contribuire a facilitare quello che è il servizio in sala. Il menù deve guardare a 360 gradi l'attività, è un vestito su misura. Ecco perché se fatto bene e con criterio, dal menù si potrà leggere la chiave segreta del successo del ristorante.